La prima tata La musica ti piace tanto, vero piccolo mio? Brahms non è come gli altri bambini. È importante che lei segua le sue regole. Sia buona con lui e lui lo sarà con lei. Senza offesa, ma mi metti ansia. Brahms. Tutto ok? Ho bisogno che qualcun altro veda questa cosa. Di che parli? Se lo lasci da solo, si farà sentire. E dove sta il trucco? Non è un trucco. Raccontami del vero Brahms. Fu una vicenda molto strana. Una bambina veniva sempre a giocare con lui in questa casa. Un giorno la trovarono morta nella foresta. E quando la polizia arrivò, la casa era in fiamme. Brahms non riuscì a uscire. E bruciò vivo. C'è qualcuno? Sono anni che nessuno sale lassù. Non mi faresti del male, vero Brahms? Devi uscire da questa casa. Tu non hai idea di quello che ho fatto. Sarei buona con lui. Vero cara? Le star possono essere un po' capricciosette. Anche una che si direbbe insospettabile lo è. Volete sapere chi è? Allora cliccate in news e lo scoprirete. Se invece non me ne frega niente, cliccate l'altra playlist e sicuramente troverete qualcosa che vi piace. Ve lo garantisco. Ciao, ci vediamo presto con nuovi video.